Hanno ancora molto da raccontare i tre indagati per la morte di Luana Dorazio, la giovane deceduta all'interno di un'orditura a Oste di Montemurlo, in provincia di Prato. La titolare dell'azienda Luana Coppini, il marito Daniele Faggi ed il tecnico manutentore Mario Cusimano stanno elaborando la propria strategia difensiva ed hanno intenzione di farsi ascoltare di nuovo dal titolare delle indagini. Alvaglio la possibilità di presentare nuove memorie difensive, ma anche la disponibilità a nuovi interrogatori per cercare di chiarire ulteriormente la loro posizione. Il PM titolare dell'inchiesta ha preso tempo, posticipando la data entro cui avanzare la richiesta di rinvio a giudizio, come ricostruisce la Nazione. Lo stesso Pubblico Ministero si è riservato la possibilità di chiamare gli indagati per interrogarli di nuovo e acquisire nuovi elementi, anche se ancora non sono state fissate le date degli eventuali confronti. In particolare a chiedere un terzo interrogatorio è il tecnico manutentore del macchinario che la mattina del 3 maggio scorso ha schiacciato e ucciso la giovane operaia. Resta il fatto che l'inchiesta è stata chiusa, tempo di record in appena cinque mesi, nonostante la perizia sia arrivata sulle scrivanie degli inquirenti dopo ben due proroghe rispetto ai due mesi di tempo inizialmente concessi. Una perizia combattuta a cui hanno preso parte anche i tecnici della difesa e quelli della parte civile. Secondo questa analisi, la mattina della tragedia, Luana aveva azionato il macchinario in modalità automatica e dopo pochi secondi si era avvicinata al comando del subio, restando agganciata ad una staffa che, secondo quanto spiegato dalla consulente della procura, sporgeva più del dovuto e non era coperta da una superficie liscia. La sbarra, come descritto dal perito, afferrò la maglia, la felpa ed i leggings della ragazza trascinandola dentro il motore. A quel punto, per Luana, non ci fu più scampo.